Sono contento di queste file, soddisfatto? Sì, sono molto contento soprattutto come studioso, perché è una misura che il Paese aspettava da un sacco di tempo e penso che sarà molto utile, sia da un punto di vista sociale, di contrasto alla povertà, e sia come chance per i beneficiari per rientrare nel mercato del lavoro, per i NIT, per gli scoraggiati. Senta, i governatori del Nord hanno iniziato a lanciare l'allarme, perché ancora non è risolta la questione Navigator, che cosa si sente di dire loro? Questa è un'altra questione, diciamo così, riguarda più la parte sulle politiche attive, il reddito funziona a prescindere, perché è appunto uno strumento di contrasto alla povertà. Certo, la parte sulle politiche attive, in materia di trattativa tra Stato e Regioni, so che stanno trovando un'intesa, ci sarà presso la conferenza Stato e Regioni, ma penso che questa è un'occasione importante e che nessuno dovrà farsi scappare. E' preoccupato dal fatto che, insomma, le Regioni sui Navigator dicono che c'è un rischio caos, Di Maio ha rilanciato, possono essere 4.500, non più 6.000, insomma? Sinceramente non lo so, non sto seguendo più questa questione, giustamente il Ministro del Lavoro dovrà trattare con le Regioni, ma io non sto seguendo più questo senso. Era un preventivo un po' questo caos i primi giorni, già per fare le domande e poi bisogna vedere proprio questa card dal 19 aprile che verrà data realmente. Ma non penso che ci sia nessun caos, del resto le domande si possono fare per tutto il mese, le poste si stanno organizzando anche scaglionando per lettera, insomma, certo la curiosità oggi è il primo giorno, però insomma non è che si deve fare oggi la domanda, si può fare per tutto il mese, non scappano né le poste né i caos. Però preoccupate, l'Ocse ha abbassato ancora le stime, cioè non crede nel reddito cittadinanza? Guarda, il reddito cittadinanza deve ancora esplicare i suoi effetti, nel secondo semestre o secondo me ci saranno degli effetti molto positivi. Professore, dobbiamo chiamarla neopresidente? Non lo so, vedremo, vedremo.